Se però io mi voglio semplificare un po' la vita, non vuole che faccio più tipi di dentale. Vedete la semplificazione, no? Mettatempo, ma un effetto. Noi non vediamo le fiori, noi vediamo le emozioni. Quindi, astroganazio, tutte le cose possedate. Come voi vedete, qui, io sto lavorando, principalmente, con frutti comici. Perché il mio concetto con il vino, non fare l'acqua di gelato, parte un po' dalla natura. Se voi guardate la natura, è un bosco allontano, tutto uguale. Se vi avvicinate, però, voi vedete che ho un pianto allontano. Quindi, cerco di mantenermi sempre, sul molto grande e vecchie situazioni, così, come vanno, non mi mi credo di questo, perché il mio grego, doveva andare in carattacano, come va a fare le cose, e, edo, è assaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.